Un turismo di qualità gli insegna della storia e della letteratura, così la terra dell'osso diverrà forse un po' come Recanati è oggi, in nome di Giacomo Leopardi. Dell'idea ne parla il primo cittadino di Morra de Santis, Pietro Mariani. Penso che sia una grande opportunità che noi non possiamo sprecare, nel senso che attraverso lo studio delle opere, della vita di questi grandi personaggi, dovremmo cercare di valorizzare questi nostri piccoli borghi per poter attirare turisti o persone che possano innescare, questa è la sfida vera dei nostri comuni, un discorso anche economico per poter cercare di uscire dall'isolamento a cui purtroppo siamo destinati. E poi c'è un messaggio, studiare, studiare, studiare. Sì, sicuramente questo è il messaggio chiave, cioè studiare, educarsi per poter affrontare le sfide del futuro, perché sono sempre più esigenti e richiedono grande capacità di affrontarle, insomma, con uno studio serio, approfondito, perché come diceva De Santis, la verità sta nel fondo del posto, non è in superficie.